Sono stato sul lago di Garda a visitare la mostra fotografica di Martin Parr Life is a Beach, organizzata dalla comune di Sirmione in collaborazione con Magnum Photos. La mostra è allestita presso Palazzo Callas Exhibitions, nel centro storico di Sirmione. È stata inaugurata il 22 marzo ed è visitabile fino al 30 giugno 2024. È organizzata su due piani e in varie stanze. Le foto esposte sono di vari formati, anche stampate su wallpaper di grandi dimensioni e su teli di sdraio posizionate su tappeti d'erba finta, per calarsi ancora di più nell'atmosfera da spiaggia. All'ingresso viene fornita una comoda brochure con le indicazioni di luogo e anno in cui sono state scattate le varie foto. È una mostra itinerante, ma in questa occasione è stata arricchita da varie fotografie scattate da Martin Parr a Sirmione e sul lago di Garda. Parr ha infatti fotografato le località del lago di Garda nel 1999 per il libro Sguardi Gardesani ed è tornato a Sirmione a fotografare anche nel 2022. Per la locandina è stata scelta una delle immagini più iconiche scattate da Parr a Sirmione nel 1999. La vita è una spiaggia, recita il titolo della mostra, e Martin Parr ha una predilezione per le spiagge, perché in spiaggia le persone si rilassano e si rivelano per come sono. Le spiagge sono luoghi in cui le persone possono essere se stesse, rivelando la propria umanità in modi unici e sorprendenti. Nel Regno Unito non ci si trova mai a più di 75 miglia dalla costa, e forse anche per questo esiste una forte tradizione britannica della fotografia in riva al mare. Martin Parr ha iniziato a fotografare le spiagge britanniche negli anni 70, e negli anni 80 ha realizzato uno dei suoi libri più celebri, The Last Resort, documentando la vita balneare a New Brighton, vicino a Liverpool. Nei decenni a seguire ha fotografato le spiagge e le località di mare di tutto il mondo, offrendo uno sguardo unico sui costumi e sui rituali balneari di vari paesi e cultura. Lo stesso Martin Parr ci dice Ho fotografato in spiaggia per molti decenni, documentando ogni singolo aspetto di questa tradizione, inclusi i primi piani dei bagnanti, i nuotatori requieti colti nel mezzo di un tuffo e l'interminabile picnic in corso sulla spiaggia. Si può comprendere molto di un paese osservando le sue spiagge. Attraverso le culture, la spiaggia rappresenta quel raro spazio pubblico in cui si possono rinvenire i comportamenti nazionali più stravaganti e bizzarri. Martin Parr, britannico, classe 1952, è uno dei fotografi contemporanei più importanti. È membro dell'agenzia Magnum dal 1994 e ne è stato anche presidente. Il suo stile eclettico, dirompente e irriverente è molto riconoscibile ed è diventato il suo marchio di fabbrica. I suoi scatti ci offrono opportunità di vedere il mondo dalla sua prospettiva unica e originale. A prima vista, le sue fotografie possono sembrare esagerate o addirittura grottesche per via dell'uso del flash anche in pieno giorno, di colori sature e sgargianti e delle prospettive insolite. Questo rende le sue foto originali e divertenti, ma al tempo stesso serie perché documentano il modo in cui viviamo, come ci presentiamo agli altri e cosa apprezziamo. Martin Parr descrive infatti la sua attività in questo modo. Faccio fotografie serie mascherate da intrattenimento. Faccio fotografie serie mascherate da intrattenimento.